Un tavolo in prefettura ancora non fissato ma invocato da più parti potrebbe rivelarsi finalmente chiarificatore. Galeotti i dubbi sollevati dal sottosegretario Tarantino e il senatore Mario Turco che però ci ha subito tenuto a precisare che non si trattava di un passo indietro. Al centro lo stabilimento ex Miroio di Castellaneta che presto dovrebbe ospitare il progetto Agromed ma soprattutto i tanti lavoratori finalmente in attesa di una speranza. Replica Turco e sottolinei alcuni aspetti il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marco Galante. Il capannone ricorda è sotto sequestro per una vicenda giudiziaria ma si sta cercando di far sì che il comune proprietario riesca ad averlo al più presto per avviare le bonifiche necessarie per l'avvio della piattaforma agroalimentare. Per questo a breve si terrà il tavolo in prefettura. L'obiettivo è cercare di arrivare al dissequestro qualora non avvenga in tempi brevi si partirà da grottaglie per poi spostarsi a Castellaneta rivolgendosi ai lavoratori. Il consigliere regionale dice non dovete pensare nemmeno per un istante che ci stiamo tirando indietro dagli impegni presi. Restano invece molto perplessi sindacalisti di FICTEM, CGL, FEMCACISL e WiltekWil. Così non va perché un accordo è stato firmato un mese fa al Mise. Qualora ci fossero ripensamenti bisogna rispettarlo. Così non va perché nella delibera Cipe sottolineano che porta nelle tasche di Agromed ben 10 milioni di euro di soldi pubblici è stato strettamente legato il progetto al capannone di Castellaneta. Tutte le parti erano perfettamente a conoscenza delle difficoltà giudiziarie e che ci sarebbe stato l'impegno a superarlo. Signor sottosegretario scrivono i sindacati. Così non va perché pensare di fare disfare, dire ritrattare, fare carta straccia degli accordi firmati dei sindacati, dei lavoratori e dei cittadini non è rispettoso delle istituzioni che rappresenta.